Signore e signori suona per il Contest DJ Battle Alessandro Coppola Alessandro facci ballare Alessandro Coppola Yeah, questo è il sound che ci piace Questo è il Contest DJ Battle 2010, quinta tappa Galleria Commerciale Porta di Roma Grazie a tutti Grazie a tutti Maria Maria Questo è il sound che ci piace Gire i dischi per voi Dammi in turno Latina Alessandro Coppola Welcome to the fantastic world of the house Vianzaic House Vianzaic Vai Alessandro, regalaci la tua emozione musicale questa notte How's music, how's music, let's go Grazie a Like, go, 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 go Yeah Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.